Già sono le 4 e mezza del mattino e si parte di nuovo per l'Ungheria ma stavolta con un bel viaggio in macchina di 1100 km in attesa del mio collega e poi si parte a dopo ciao ciao 7 del mattino prima tappa abbiamo già fatto 200 chilometri siamo fermati toilette e un caffè e poi si riparte ancora buio un po di pioggia ma si viaggia male piccola pausa frante siamo ancora in Slovenia a confine con l'Ungheria questi sono i camion che arrivano dall'Ungheria passano i controlli sloveni un bel panino siamo alle porte di Budapest siamo a 229 chilometri dalla nostra destinazione che è Mischkoltz e siamo fermati un attimo a fare una pausa per una boccata d'aria 229 chilometri siamo arrivati a Mischkoltz Mischkoltz questo è il 17 gennaio qui a Mischkoltz c'è tantissima neve come si vede il paesaggio è fantastico provo a fare una camminata anche se fa freddissimo sono le sette e mezza dal mattino giriamo qua e vediamo questa è una cappella che abbiamo trovato qui a Mischkoltz molto particolare direttamente a Mischkoltz Musica Il castello di Honod Musica Il castello di Honod Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.